Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monospor G7, siamo qui per parlare di Formula 1 perché ragazzi c'è da recensire un'altra disfatta dalla Ferrari, sono un bel po' di gara che la Ferrari o c'è l'errore del pilota o ci sono errori di strategia o errori di pit stop, cioè ragazzi veramente non riusciamo a trovare un gran premio normale dove dici siamo alla seconda forza, facciamo terzi e quarti, siamo alla prima forza, facciamo primi e secondi Leclerc che torna al podio, beh ragazzi Leclerc ha fatto due podio nelle ultime 11 gare quindi vedete voi se un pilota del genere può essere in lotta al titolo o meno, non parlo di Leclerc perché le 9 gare dove non è andata al podio non sono praticamente colpa sua nessuna delle 9 ragazzi cioè nessuna delle 9 io dico Leclerc è stata la quarta forza in pista, questo voglio dire perché in Canada si ha fatto quinto, non gli è successo nulla, ma non gli succede nulla quando parte dietro perché quando è primo gli succede di tutto, quando deve rimontare perché ne so una quarta o una quinta posizione non gli succede un cazzo di niente perché io preferisco perdere punti come è successo a Imola che da terzo diventi sesto perdi quanto? 8 punti, 7 punti, finisce lì già da primo a quarto cambiano 12 punti, capite cosa voglio dire? 13 punti, capite cosa voglio dire ragazzi? 14 poi se ti fregano anche il giro veloce però insomma questo è ragazzi, altra disfatta Ferrari la situazione sta diventando veramente imbarazzante cioè ragazzi anche Nico Rosberg ha usato veramente parole durissime verso Binotto dicendo che deve cambiare tutto il team, la Ferrari che non sono incapaci ma perché ragazzi ti scordi una posteriore sinistra non riesci a fare un doppio pit stop quando la Mercedes lo fa lascia stare che poi Rueda si è andato nel box Mercedes per fare la strategia a Hamilton ma il doppio pit stop l'hanno fatto, ciò che non aveva avuto il coraggio di fare la Ferrari in Gran Bretagna e ora ci si è messo anche Vanzini contro Binotto perché Binotto non voleva fare l'intervista a Sky settimana scorsa il fatto che richiamano le clerical box con il meccanico della posteriore sinistra che sta nel posto dell'anteriore destra come cazzo fai a confondere una gomma più grande con una più piccola? non l'ho capito perché per chi non lo sapesse le gomma posteriore in Formula 1 sono molto più grandi di quella anteriore voi direte perché c'è una spiegazione ingegneristica dietro andatevi a vedere un video di chi è più bravo di me a parlare di queste cose io studierò ingegneria a partire da ottobre quindi per il momento non voglio darvi molte spiegazioni anche perché viene a direi comunque perché rosso il team radio del pit stop all'Eglerk dove l'Eglerk dice voglio aspettare un altro giro se non esce Safety Car BOOM! lo chiamano lo stesso ma andate veramente a cagare mi dispiace veramente veramente tanto di quello che è successo e insomma ragazzi veniamo percullati da tutti e questo non va bene perché siamo alla ricerca di una gara normale devo capire Sainz di quanto è stato penalizzato perché è arrivato ottavo io ancora non ho capito bene comunque Sainz weekend molto sottotono rispetto all'Eglerk nell'intero weekend così come l'Eglerk aveva fatto un weekend molto sottotono a Spa però ci sono spiegazioni in entrambi le cose e qui non c'entra un cazzo la scuderia per una volta c'entra la fortuna che abbiamo avuto mentre Perez è costantemente più lento di Verstappen di mezzo secondo al giro in ogni weekend perlomeno da Canada in poi perché prima di Canada Perez se la giocava comunque con Max cosa succede? succede che ragazzi a Spa a l'Eglerk va la visiera strappo di Verstappen nella sua macchina e vabbè sensore danneggiato secondi di penalità strategia che non va neanche lì vabbè però se non c'era stato il coso del sensore comunque la strategia più o meno l'avevano azzeccata un punto in più se lo prendevano ecco e insomma poi quindi diciamo che la gara di Leclerk è stata destabilizzata dal fatto che ha fatto dal fatto di aver di essersi firmato una volta in più e quindi già lì sono 20 secondi che perdita da Sainz più questo fatto del della visiera strappo di Verstappen mentre qui in Olanda ha avuto il fondo danneggiato per tutta la gara Sainz al seguito del contatto con Lewis Hamilton al via Lewis Hamilton ha sul cazzo Verstappen ma toglie punti solamente alle Ferrari anche se a dirla tutto in questo weekend direi che ora li ha tolti anche a Perez però per farvi capire ne ha tolti due a Perez e quattro a Sainz quello sì anche perché Sainz aveva una macchina danneggiata proprio per questo e io direi che la Ferrari può ambire al mondiale costruttore certo abbiamo perso altri 20 punti e abbiamo una macchina penalizzata dalla fatto della TD39 però ragazzi con un Perez che arriva a sesta ogni gara se non ci sono episodi te la potevi giocare bisogna vedere ora perché secondo me da qui in avanti la Ferrari fa solo un'altra vittoria ne sono certo di questo perché la TD39 è in fluido e ora ne riparliamo in questo momento credo che da qui fino alla fine la Ferrari sarà la terza forza e probabilmente arriverà a terza anche nel mondiale ragazzi perché la Mercedes massimizza ogni risultato certo ieri poteva fare secondo e terzo hanno sbagliato la strategia Hamilton che poteva uscire addirittura davanti Verstappen secondo me però ragazzi questo è quanto non si poteva fare nulla e alla fine la Mercedes fanno secondi e quarti ma quanto ci hanno perso tre punti da terzo a quarto la Mercedes ha perso tre punti la Ferrari quando ne ha persi non vi dico quanti ne ha persi a Monaco ne ha persi diciamo 25 perché ne ha regalati 12 la Red Bull e ne ha persi 12 la Ferrari poi che ne so Ungheria non ne parliamo sono altri 30 punti e Gran Bretagna anche lì strategie proprio mai che capita alla Red Bull di sbagliare la strategia se ne va a capitare vanno a perdere due o tre punti la Ferrari quando la sbaglia ne deve perdere 30 olè quindi mi dispiace di questo Ferrari ha veramente tanto da migliorare perché la Mercedes non va in rettilineo per quella configurazione aerodinamica che ha perché se no il motore della Mercedes non è che sia proprio da buttare diciamo così motore Red Bull non so che cazzo gli è preso hanno trovato veramente un giusto feeling tra telaio e un motopropulsore perché la tua auto solitamente tu dici la Ferrari va più forte in curva la Red Bull va più forte in rettilineo eh ma la Ferrari va più forte in curva di un decimo per farvi capire la Red Bull va più forte in rettilineo di mezzo secondo e questo veramente pesa l'attanto da qui a fine stagione e bisognerebbe guardarsi indietro e guardarsi avanti difendere il secondo posto dalle Glerk nella costitica piloti e soprattutto il secondo posto dalla Ferrari in quella costruttori perché Russell è a meno 13 ragazzi Russell è a meno 13 dal secondo posto incredibile c'è la tensione in casa Mercedes Hamilton non è più giovanissimo gli sviluppi potrebbero essere concentrati su Russell per il fatto che hanno ridimensionato la macchina per il fatto che Hamilton prima o poi si ritirerà e per il fatto che Russell è riuscito fin dalle prime gare a strada amanti a Hamilton ricordo che ora magari si può parlare del fatto che Hamilton e Russell siano più o meno alla pari ma ragazzi Russell ha battuto Hamilton sette volte consecutive Hamilton ha battuto Russell nella prima gara in Bahrain dove è stato costantemente comunque più veloce tra qualifica e gara ma parliamo comunque di un decimo al giro nulla più dalla seconda gara in poi a Jedda Russell ha sempre sottolineo sempre battuto Hamilton in gara per sette gare consecutive poi dopo queste sette gare ci sono state cinque gare dove Hamilton ha battuto Russell ma in queste cinque ci mettiamo di mezzo il fatto che Russell abbia preso penalità per il contatto con Perez in Austria che Russell si sia ritirato in Gran Bretagna mi sembra di sì dove è successo con l'incidente a Guanaju e quindi ragazzi questo è ci possiamo mettere di mezzo a quale due gare Hamilton rimane un leone io credo che in questo momento Hamilton e Russell sia la miglior coppia nel paddock per la miglior coppia dei piloti però inizia a ballare un po' di tensione la Mercedes forse vuole sviluppare vuole sviluppare più le intenzioni di George Russell anche se come stile di guida devo dire che Hamilton e Russell sono abbastanza simili devo dire la verità anche perché non sono mai per esempio Hamilton mezzo secondo più veloce di Russell o Russell mezzo secondo più veloce di Hamilton in una gara per farvi capire la più grande differenza si è avuta quando mi sembra Jedda Hamilton undicesimo e Russell quinto ma perché Hamilton non riusciva a passare i casi lì che aveva anche lui il DRS della macchina ancora davanti quindi questo è quello che è successo ragazzi è nulla vediamo ditemi come la pensate voi perché è veramente brutto fare così Russell può ambire ad essere secondo a fine campionato perché ha 30 punti di vantaggio su Hamilton e soprattutto è a meno 13 dal secondo posto quindi può veramente ambire oltre la seconda posizione nel costruttore il Mercedes anche la seconda posizione nel mondiale piloti come faccio sempre vado anche a parlare un po' del centro gruppo ragazzi allora io direi che Alonso Ocon e Norris stanno monopolizzando il fatto di essere sempre costantemente i primi degli altri è veramente raro vedere qualcuno arrivare davanti a questi tre scorsa gara abbiamo avuto Vettel che è arrivato davanti a Norris ma non davanti le due Alpine abbiamo avuto Vettel e Gasly davanti in Azerbaijan ma è stato un caso più unico che è raro e poi basta Magnus e Bottas abbiamo visto bene in Bahrain per il resto praticamente Alonso con Norris hanno monopolizzato il fatto di essere migliori degli altri costantemente ogni gara e si giocheranno anche il posto di migliore degli altri in classifica dove secondo me alla fine prevalerà assolutamente Lando Norris che è il più diciamo per esempio Ocon questa gara ha fatto nono Norris quando capita di fare punti fa sesto settimo non fa praticamente mai nono e comunque secondo me Ocon ha qualcosa in meno in termini di velocità rispetto ad Alonso Norris ma sicuramente qualcosa in più in termini di costanza ragazzi di risultati quindi veramente ottimo essere un Ocon veramente ottimo in generale l'Alpine di quest'anno che sarà quarta forza e sarei veramente felicissimo di vedere Mick Schumacher andare in questa scuderia anche Gasly se lo merita però di certo preferisco più che Gasly rimangano al Fatauri rispetto al fatto che Mick Schumacher debba stare senza sedile perché non se lo merita e non ne parla nessuno che ogni gara gliela rovina ogni stile giovinazzi ragazzi ma di questo ne parla noi un video a parte perché non è possibile due pit stop di Mick Schumacher in uno di 10 secondi e l'altro di 6 ma andate a cagare gra perché uno ve ne dico uno ce n'è uno su TikTok che dice Mick Schumacher è supervalutato perché per esempio questa gara dici parte ottavo e poi finisce quindicesimo è supervalutato ma si avrà valutato che cosa gli fanno due pit stop entrambi in ritardo uno di 10 uno di 6 che cazzo deve fare Mick Schumacher ragazzi che cazzo deve fare peraltro in termini di passo gara in termini di qualifica tutto il weekend avanti Magomisen ma allora smettiamola smettiamola di sopravvalutare Magomisen e sottovalutare Mick Schumacher perché si fa passare Magomisen per quello sottovalutato e Mick per quello sopravvalutato ma andate a contestualizzare le gare andate a contestualizzare un attimo le gare e vedete innanzitutto che Mick Schumacher nel confronto con Magomisen di quando uno di due non si ritira è 8-3 8-3 per Mick Schumacher in qualifica meglio Magomisen 8-5 ma comunque in gara 8-3 per Mick Schumacher parlo di quando entrambi non si ritirano ora non so se esattamente 8-3 non so comunque siamo lì Magomisen Schumacher l'ha potuta sicura tre volte Schumacher se non mi sbaglio è un 7-3 non un 8-3 però comunque siamo lì siamo lì perché puttana ragazza ci farò un bit a parte perché sono veramente infuriato non dico che Mick Schumacher abbia il talento del padre dico solo che Buonsangue non mente che non ha vinto a caso Formula 3 e Formula 2 perché ragazzi veramente è inammissibile che l'assi si comporti in questo modo con questo pilota sono sicuro al 100% che lo siluriranno a fine anno e spero che vada in Alpine perché se così non fosse ragazzi sarei veramente deluso dall'ennesimo pilota trattato malissimo dal T-Maz che l'ha preso perché la scuderia era in bancarotta e poi alla fine ti riprendi Magomisen certo sarei felice di un ritorno di Giovinazzi perché sei italiano però ragazzi sarei assolutamente trista per il trattamento riservato a un pilota che comunque va tanto tanto da dimostrare Alonso che si è ripreso dopo aver fatto una prima parte di stagione dove nelle 6 prime gare si era fatto battere per 6 volte da Ocon e poi potete dire strategia ragazzi non è che l'Alpine gli sbagli era strategia 6 gare di fila le prime 6 gare Alonso non c'era era successo anche lo scorso anno nelle prime 4 gare Ocon 4 volte davanti a Alonso ora Alonso si è un po' ripreso 4 volte nelle ultime 6 gare è stato il migliore degli altri di 4 volte nelle ultime 6 gare si è piazzato davanti a Stamano Con e quando non si è piazzato c'è stato Canada dove ha fatto la cagata di difendersi male da Bottas perché per il resto Alonso avrebbe fatto sicuramente se non mi sbaglio gli avrebbe conclusa la gara in sesta posizione quindi questo è tutto ottimo weekend per Stroll però Stroll quando fa punti ne fa 1 quando gli fa Vettel ne fa 2 ne fa 4 ne fa 6 e Stroll rimane a 5 punti Vettel ne ha tipo 20 ragazzi detto questo il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se ti è piaciuto vi darci a un mi piace se non trarre un dislike commentate se siete d'accordo o restate d'accordo con me se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale in descrizione il link per sicuramente su Instagram da Manosbarrizo7 e tutto e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi